Un'ovra in deficit al 2,4% non piace ai mercati con la Borsa di Milano che perde il 3,7% lasciando sul terreno 22 miliardi di euro di capitalizzazione. Lo spread sale e chiude a 267 punti. Allarme dall'Unione Europea. Il debito è esplosivo, così sono state violate le regole. Le agenzie di rating si preparano a rivedere il giudizio sull'Italia che rischia un declassamento. Il governo però va avanti per la propria strada. Il Premier Conte è sicuro che davanti al dettaglio della manovra lo spread scenderà e ci sarà una forte crescita del PIL. Durissime invece le reazioni delle opposizioni. Non è una manovra per il popolo ma contro il popolo, secondo Forza Italia. Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno, sottolinea Matteo Renzi. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto per Genova. Critiche per il testo a ribasso e per la riduzione dei fondi arrivano dal governatore della Liguria Toti e dal sindaco di Genova Bucci. Sta per arrivare Claudio Gemme con una lunga esperienza in fincantieri come commissario straordinario per la ricostruzione. Lo sport niente da fare per l'Italia della pallavolo che vince contro la Polonia 3 a 2 ma viene eliminata dalla competizione iridata. Nel calcio è un sabato di Serie A all'insegna delle grandi sfide su tutte. Quella di Torino fra Juventus e Napoli o cioè le prime due della classifica. Derby della verità fra Roma e Lazio. In campo anche l'Inter contro il Cagliari. Le 7.30, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, giovedì sera il varo della manovra, ieri una giornata molto difficile sui mercati. La manovra, o meglio la nota di variazione al DEF che prevede un deficit del 2,4%, non è piaciuta affatto ai mercati. La borsa ha perso il 3,7% e anche lo spread è in forte salita. Non si tratta della manovra, ma della cornice entro la quale la manovra si inserirà. Eppure il via libera, dato giovedì sera dal Consiglio dei Ministri, alla nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza, con la decisione di spostare l'asticella del deficit al 2,4%, liberando circa 27 miliardi per finanziare, appunto in deficit, una parte dei cavalli di battaglia, pentaleghisti, ha avuto gli effetti sui mercati che in molti temevano o meglio si aspettavano. L'ultimo giorno di contrattazioni della settimana, infatti, si è trasformato in un venerdì nero, nel corso del quale Piazza Affari ha bruciato 25 miliardi di euro di capitalizzazione, perdendo il 3,72% e contagiando gran parte dei listini europei, a cominciare da Francoforte. A far colare a piccola borsa di Milano, come prevedibile, i titoli bancari, del resto gli istituti di credito hanno ancora in pancia una enorme quantità di titoli di Stato, proprio gli osservati speciali della giornata post-DEF. Lo spread, il differenziale tra BTP decennali e Bund tedeschi, si è infatti allargato fino a toccare i 280 punti base, per poi ritrattare leggermente e chiudere a quota 267 con rendimenti ben superiori al 3%, rendimenti crescenti sui decennali, così come sui titoli a due anni, termometro particolarmente eloquente della tenuta del Paese in un orizzonte di breve termine, significano un più alto costo di finanziamento del debito, significano che le banche applicheranno tassi più alti per concedere prestiti, significano che parte delle risorse liberate dal maggior deficit serviranno a rimborsare il debito stesso. Questo, almeno, se nelle prossime settimane e nei prossimi mesi l'andazzo sui mercati dovesse rimanere lo stesso, mentre è alle porte la fine del quantitative easing della Banca Centrale Europea ed è ancora più incombente la scadenza di fine ottobre, quando Standard & Poor's e soprattutto Moody's hanno in programma una revisione del giudizio sull'Italia che, se si traducesse in declassamento, vorrebbe dire che i nostri titoli si avvicinerebbero ulteriormente a livello spazzatura, quello che molti fondi di investimento e investitori istituzionali non possono neanche detenere. Per quel periodo già sapremo quale sarà la linea che deciderà di tenere l'Unione Europea, che entro il 15 ottobre dovrà ricevere una bozza della legge di bilancio. Se la respingesse in toto e Governo e Parlamento non si adeguassero alle richieste di modifica, si avvicinerebbe l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese con conseguente commissariamento di fatto da parte dell'Europa. Comunque tutto era abbastanza annunciato, la reazione dei mercati prevedibile e il Governo intende andare dritto per la sua strada, non cambierà nulla, anzi i mercati si dovranno convincere, dicono insieme Conte, il Presidente del Consiglio, i suoi due vice Di Maio e Salvini. Lanciato il guanto di sfida, adesso si attende la risposta dell'Europa, che dovrà arrivare entro il 20 ottobre. Per quel giorno le Camere dovranno dare via libera alla manovra. Se dall'Europa arriverà una bocciatura, noi andremo avanti lo stesso, assicura Matteo Salvini, mentre dai 5 Stelle Di Maio si fa più prudente e dice di non voler arrivare allo scontro. Ieri il Premier Conte ha provato a rassicurare i mercati, vogliamo ridurre il debito attraverso la crescita, mentre il silenzio ha segnato la giornata del Ministro dell'Economia, Tria, frenato, secondo molti, dal Quirinale nel proposito delle dimissioni. All'attacco della manovra le opposizioni, ladri di futuro li ha chiamati dal PD Maurizio Martina. Le scelte di oggi, tra un anno, avranno conseguenze devastanti, la profezia di Matteo Renzi, mentre i senatori Dem hanno coniato l'ASTAG, paga il popolo, facendo il verso alla manovra del popolo giallo-verde. Una manovra bocciata anche da Forza Italia, con Antonio Tajani, che la definisce contro il popolo. Destabilizza la finanza pubblica del Paese, provoca danni ai titoli pubblici, alle banche, alle famiglie e alle imprese, l'impietosa sentenza dell'ex Ministro dell'Economia, Padoan. Ma dal PD le reazioni si differenziano. Dalla Puglia il governatore Emiliano chiede al partito di cambiare il suo giudizio su questa manovra e di non difendere i poteri forti. Si associa a Francesco Boccia, i vincoli di bilancio non sono un totem da difendere, mentre da LU Stefano Fassina definisce quella del governo una scelta necessaria e coraggiosa. Aperture arrivano anche dal sindacato. Mentre CGL e UIL chiedono l'avvio di un confronto dalla CISL, Anna Maria Furlan si spinge più in avanti. Se si investe per la crescita, non si crea nuovo debito, si crea futuro. L'importante, dice, è far crescere il Paese. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, intanto ha firmato l'attesissimo decreto su Genova. Il provvedimento che avvierà la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto scorso. E c'è anche, di fatto, il nome di chi potrebbe guidare questa ricostruzione. Un genovese, Andrea Gemme. La ricostruzione del Ponte Morandi partirà alla velocità della luce, parola del Vice Premier Luigi Di Maio. Ricostruzione che, sembra, adesso abbia anche il nome di chi la guiderà. Un nome non ancora ufficiale, ma fortemente voluto dalla Lega, dicono fonti parlamentari, e che incontra il gradimento del governatore Toti, che voleva candidarlo a sindaco di Genova. Quello di Claudio Andrea Gemme, 70 anni, genovese doc, cresciuto in Via Porro, in piena zona rossa. Gemme vanta diversi ruoli in confindustria e soprattutto una lunga esperienza in fincantieri. La società che vorrebbe il governo per la ricostruzione dell'opera, dopo le stromissioni di autostrade per l'Italia, chiesta e ottenuta dal Movimento 5 Stelle. Intanto, ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge che prevede le nuove misure da adottare per la città dopo il crollo del ponte. Il provvedimento, che nella seconda metà di ottobre dovrebbe essere inviato in Parlamento, però non convince le istituzioni locali. Col Presidente della Regione Toti e il Sindaco di Genova Bucci, fortemente critici. Un testo al ribasso, lo ha definito Toti, che poco risponderebbe alle richieste della città. Nel provvedimento, infatti, non è stato citato il terzo valico, come aveva chiesto la Regione Liguria, e i fondi messi a disposizione per il porto, il trasporto pubblico e le imprese in crisi sarebbero stati molto ridotti. Al coro delle critiche si aggiunge anche quello degli sfollati. Questo decreto, così com'è, non ci soddisfa, ha detto il portavoce Franco Ravera, non risponde alle nostre richieste e siamo pronti a rivolgerci alle forze politiche per correggerlo. Sono ancora parziali i bilanci che arrivano dall'Indonesia, dall'isola di Sulawesi, devastata ieri, una ventina di ore fa, da uno tsunami dopo un terremoto magnitudo 7.5. Si parla di decine di morti, ma il bilancio è ancora largamente provvisorio. Solo in questo ospedale abbiamo 30 morti e 12 persone che devono essere operate per fratture e traumi cranici. Ci sono numerose strutture mediche. Qui a Palu siamo tutti senza corrente elettrica e acqua. È interrotta dal momento del disastro. Aiutateci. Parole drammatiche, quelle pronunciate dal direttore provinciale dell'Associazione dei Medici Indonesiani, in questo video appello, postato nella notte in rete. Al momento non c'è un bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto, l'ultimo di magnitudo 7.5 e il successivo tsunami, che ieri hanno investito la costa centro-occidentale dell'isola indonesiana di Sulawesi. Un bilancio che sembra destinato a crescere, secondo quanto raccontato dai soccorritori, che nella notte a fatica sono riusciti a raggiungere il luogo del disastro e parlano di numerosi corpi senza vita. Queste invece sono le immagini riprese dall'ultimo piano di un centro commerciale sul litorale, onde alte fino a due metri, che si sono abbattute sulla costa dell'isola, spazzando via tutto, tra le grida della gente, presa dal panico in fuga. Ci sono i resti di case crollate, auto che galleggiano. La seconda scossa, le 18.02 locali, quando in Italia era mezzogiorno, è stata devastante, l'epicentro, 27 km a nord-est della città di Dongala, solo 10 km di profondità. Le dimensioni di quanto accaduto non sono ancora chiare. La protezione civile indonesiana racconta di una grande quantità di case crollate, danni estesi anche a un centro commerciale della capitale provinciale di Palu, 78 km più a sud, dove vivono oltre 350.000 persone. L'Indonesia è uno dei paesi al mondo più a rischio per terremoti. Due mesi fa, durante le vacanze estive, l'isola di Lombok era stata colpita da due potenti scosse in una settimana, che avevano a causa di oltre 500 morti. La devastazione più grande, il maremoto del 2004, a largo di Sumatra, oltre 180.000 vittime. Va avanti la candidatura di Brett Kavanaugh, il giudice che Donald Trump vuole alla Corte Suprema, ma avrà uno stop, uno stop abbastanza inatteso. Ieri il primo sì in commissione dal Senato, adesso per la ratifica ufficiale bisognerà attendere un'indagine dell'FBI sulle denunce di Christine Ford, la donna che dice che nell'82 subì un tentativo di violenza dall'uomo. La candidatura di Brett Kavanaugh può andare avanti al plenum del Senato, ma non senza dramma. Passano lunghi minuti prima che Jeff Flake, senatore repubblicano, incerto se dare il via libera, torna in commissione di giustizia. Voto sì, dice Donald Trump, tira un sospiro di sollievo, ma chiedo che parallelamente si lascia una settimana all'FBI per approfondire l'inchiesta sulle accuse di tentato stupro e violenza contro Cavanov, rese pubbliche non solo nella drammatica seduta di due giorni fa da Christine Blasey Ford, ma anche da altre tre donne. Poco dopo sono gli stessi senatori repubblicani a chiedere a Donald Trump di dare mandato ai federali di estendere le indagini per un'altra settimana, fino al termine ultimo del 5 ottobre. Dalla Casa Bianca fanno sapere che lo stesso presidente è pronto a dare il via libera. Lascio che la decisione la prenda al Senato, dice Trump, che dunque sembra allinearsi con la richiesta, ma non ho mai pensato neanche per un minuto che la mia scelta non fosse la migliore, sottolinea. Il supplemento di indagini in realtà serve soprattutto ai repubblicani per convincere gli ultimi riotosi a non opporsi alla scelta di Trump. Tra di loro le sediatrici Susan Collins e Lisa Murkowski, notoriamente moderate e non proprio sostenitrici di questo presidente, per i repubblicani infatti la posta in gioca è quanto mai alta. Siamo all'alba di una vittoria senza precedenti. La costruzione di una Corte Suprema profondamente conservatrice, in linea con il pensiero di Donald Trump e con l'ultradestra evangelica, un organo dal potere enorme in grado, con le sue sentenze, di plasmare il voto dell'America sui temi più scotanti, come l'aborto, il libero mercato, l'immigrazione, la tortura, i diritti civili e delle minoranze. Una Corte che, vista la giovane età dei suoi giudici, eletti a vita, potrebbe restare intoccata per decenni. Ieri a Berlino incontro fra la cancelliera tedesca Merkel e il presidente turco Erdogan, dopo un periodo di grandi tensioni, un tentativo di rappacificazione che però ha avuto ancora qualche asprezza. Dopo due anni di relazioni molto tese, è tregua tra Angela Merkel e Recep Tayyip Erdogan. Nell'incontro di ieri a Berlino, la cancelliera tedesca ed il presidente turco si sono impegnati a tentare di ricucire i rapporti tra i rispettivi paesi. E questo, nonostante Frau Merkel, abbia sottolineato che rimangono profonde differenze su temi come diritti umani e libertà di stampa. Da tempo, in crisi economica, la Turchia stenta a risollevarsi e la Germania auspica che Ankara ritrovi stabilità, magari proprio grazie al dialogo con Berlino. Nella capitale tedesca, almeno 6.000 oppositori turchi e kurdi hanno manifestato pacificamente contro la visita del sultano. Già prima del faccia a faccia con Merkel, mentre Erdogan incontrava il presidente della Repubblica, Steinmeier, le agenzie di stampa battevano la notizia della minaccia di Erdogan di disertare la conferenza stampa se ad essa avesse partecipato l'ex direttore del giornale turco, Kum Hariet, Khan Duendar, da tempo esiliato in Germania, del quale il presidente turco chiede l'estradizione. Il reporter ha rinunciato al briefing, ma ha delegato ad un collega tedesco il compito di rivolgere le proprie domande ad Erdogan. Non sono un agente, ma un giornalista, ha spiegato. Non ho partecipato solo per non fornire ad Erdogan un pretesto per non presentarsi, salvandosi così dalle domande critiche dei giornalisti. Dopo aver annunciato un vertice incentrato su Idlib, l'ultima roccaforte ribelle anti-Assad in Siria per il mese prossimo, a cui dovrebbero partecipare Russia, Turchia, Germania e Francia, Merkel ed Erdogan hanno affrontato temi spinosi, come la richiesta turca di estradare 69 cosiddetti terroristi presenti in Germania e la questione dei cinque cittadini tedeschi ancora detenuti in Turchia. Siamo allo sport. È sfumato il sogno dell'Italia del volley di approdare alle semifinali iridate. Gli uomini di Blangini, dopo la secca sconfitta subita due giorni fa dalla Serbia, hanno infatti sbattuto contro il muro dei polacchi, che sono i campioni del mondo in carica. Occorreva un 3-0 con 15 punti di scarto per proseguire nel cammino mondiale. Invece, il netto 25 a 14 subito nel primo set ha stroncato subito ogni speranza. A quel punto, però, l'orgoglio degli azzurri ha regalato una gioia al pubblico toninese. Grazie al successo ottenuto al tie-break del quinto set, l'Italia viene eliminata, la Polonia va in semifinale stasera contro gli Stati Uniti. Ma poi c'è una grande giornata di calcio. Il match clou di oggi alle 18 è Juventus-Napoli, prima contro seconda in classifica. Ma a completare la giornata alle 15 c'è il derby di Roma e alle 20 e 30 c'è Inter-Cagliari. È troppo presto per definirlo un sabato decisivo, ma i due big match di oggi daranno indicazioni importanti sul futuro del campionato. Si inizia con il derby dell'Olimpico nei 28 gradi delle tre di pomeriggio. La Roma ci arriva dopo il successo sul Frosinone, che ha parzialmente riabilitato Di Francesco. La stracittadina ci dirà chi siamo, spiega il tecnico giallorosso, pronto a rilanciare Geko, tenuto a riposo nel turno infrasettimanale. Molte certezze in più a Formello. Le quattro vittorie di fila hanno spinto la Lazio ai piedi del podio, ma nonostante i quattro punti di vantaggio, Simone Inzaghi non crede alla crisi dei cugini. È stato solo un momento delicato, avverte il tecnico biancoceleste, preparando il ritorno dal primo minuto di Leiva, Milinkovic-Savic e Immobile. Da Roma a Torino, dall'Olimpico allo Stadium, dove alle 18 c'è Juventus-Napoli, scontro al vertice, e ideale prosecuzione della corsa a scudetto dello scorso anno. A punteggio pieno, i bianconeri tentano la prima fuga della stagione. Partita più importante per loro che per noi, puntualizza Allegri, che si affida al tridente Ronaldo Mangiukic-Bernardeschi, per cercare di prendere il largo. Non firmo per il pareggio la replica dell'ex Juventino Ancelotti, capace in poco tempo di rimodellare un Napoli che sogna l'aggancio in vetta. Unico dubbio di formazione è chi tra Mertens e Milik affiancherà l'inamovibile Insigne in attacco. Delle due super sfide di oggi proverà ad approfittarne l'Inter, impegnata stasera a San Siro con il Cagliari. Per i Nerazzurri è stata la settimana perfetta. Un altro successo nell'anticipo permetterebbe a Spalletti di rossicchiare punti a chi gli sta davanti. La Serie A in due anni. E' questo l'obiettivo della coppia che ora guida il Monza. Una coppia conosciuta nel mondo del calcio. Sono Berlusconi e Galliani. E' stata una cosa romantica, dice Adriano Galliani, per spiegare l'area in tre di Silvio Berlusconi nel calcio. Dal Milan, che ha vinto tutto, al Monza, che non è mai stato in Serie A. Ma adesso conta di arrivarci in due anni. Il minimo indispensabile, visto che gioca in Lega Pro Serie C. Berlusconi l'ha comprato con una trattativa lampo e circa 3 milioni di euro. Ha lasciato la presidenza all'ex patron, l'imprenditore della plastica Colombo, che solo due anni fa aveva salvato la società dal fallimento. e ha nominato amministratore delegato il suo plenipotenziario di sempre, Galliani, già dirigente del Monza, dal 75 all'85. Perché è romantico? Non chiedete cosa fate dello stadio, fate cose. Questa operazione è stata fatta con grande amore da Silvio Berlusconi, perché Berlusconi ha voluto fare qualcosa per questo territorio. Quando ci sono accesi le luci dello stadio, del Brianteo si vedono d'arco. Berlusconi già segue tutte le partite l'altra sera. Visto in tv il derby casalingo con Renate, vinto 1-0, annuncerà le sue strategie fra una settimana, ma i tifosi già sognano. Poi non so, se dovesse arrivare Kakà, da come dicono, sarebbe un grande... Kakà a giocare? Kakà a giocare, sì. Speriamo di arrivare fino alla Serie A, tranquillamente. Era l'estate 86, quando Berlusconi mise la squadra sugli elicotteri e sbarcò all'Arena di Milano. Poi Scudetti e Coppe in Serie. Prima di parlare vinci due Coppe Campioni, come me, disse al professor Spaventa, suo avversario alle elezioni del 94. La prossima il Monza la giocherà allo stadio Benelli di Ravenna. Non è il massimo, ma è meglio che guardare i cantieri. E poi il Monza è già primo in classifica, a punteggio pieno. Tornare a San Siro da sfidante sarebbe il massimo. E vedremo come andrà. Allora, fra poco, Paolo Sottocorona con le previsioni meteorologiche. Subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Marco Fratini di oggi sono Pietro Calì, Fabio Fortuna, Francesco Seghezzi, Paola Tommasi e Gianni Trovati. 13.30 alla prossima edizione del telegiornale. Noi invece ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie, arrivederci.